Ciao Vincenzo, quanto tempo, come stai? Ciao Piero, tutto a posto, è arrivato il caldo qui in Italia. In questo video trovate una simulazione di un dialogo, ma ispirata ad un dialogo reale, tra me e il mio amico Vincenzo. E allora voi come potete esercitare il vostro italiano? Non solo ascoltando, ma scegliendo un protagonista di questo dialogo, o Pierluigi, o Piero, o Vincenzo, e poi dopo che ascoltate le battute del personaggio che avete scelto, ripetete a voce alta quella battuta, cercando di imitare non solo la pronuncia, ma anche la velocità, il modo di parlare, l'intonazione. Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video in cui potrete mettere in pratica il vostro italiano non solo ascoltando, ma anche parlando. Recentemente nel mio profilo Instagram ho chiesto a tutti quelli che mi seguono qual è la tua principale difficoltà con la lingua italiana. E la risposta è stata proprio questa, la difficoltà è quella di praticare. E allora siccome io ascolto quello che voi mi dite su Instagram, ma non solo, anche qui nei commenti, nei miei video di YouTube, l'idea di questo video è proprio quella di farvi praticare in un modo molto interessante. Per cui seguite questo video fino alla fine. Cominciamo! Ciao Vincenzo, quanto tempo, come stai? Ciao Piero, tutto a posto, è arrivato il caldo qui in Italia. E tu che mi racconti? Beato te! Qui è arrivato l'inverno in anticipo, si sono abbassate le temperature e stiamo con il maglione in casa. Beato te! Questa espressione equivale un po' al portoghese sorce sua, quindi beato te, beato te. Ma dai! Con il maglione in Brasile! Ma dai! Ma dai è un'espressione che si usa per esprimere sorpresa. Ma dai! Eh sì! Guarda che il Brasile è grande! Non c'è solo Rio de Janeiro. Al sud fa freddo come in Italia. Ah! Allora quando verrò in Brasile andrò al nord. Esatto! Se vai nel nord-est trovi caldo di sicuro. Di sicuro! Questa espressione equivale al portoghese con certesa. Di sicuro. Di sicuro. Comunque queste temperature qua, questo freddo dove abito io, non è molto comune. Comunque! Comunque equivale al portoghese G Qualquer Forma. Comunque! Infatti nei prossimi giorni la temperatura aumenterà di nuovo. Torneremo sui 22-24 gradi di giorno e 14-16 gradi la notte. Ah! Così va meglio! Allora non ti puoi lamentare! No! Assolutamente! Per me qui il clima è l'ideale. E senti, il lavoro come va? Eh! Al lavoro tutto bene. Dopo un anno in smart working abbiamo ripreso ad andare in azienda. Alterniamo giornate di lavoro in presenza con giornate di lavoro da casa. Beh dai! Meglio così no? Beh dai! Questo dai è un po' un modo di incitare, esortare un po' l'altra persona. Equivale un po' al vai del portoghese. Dai! Meglio così! Un po' come dire... Beh allora sì! Vai! Lavorare sempre da casa è un po' monotono, no? Sì, sì! Senza dubbio! Non mi lamento! Anzi! Anzi! Anzi significa al contrario! Tutt'altro! E dimmi Adriana, i bimbi come stanno? Sono tutti bene, grazie! Stanno tutti bene. Come vedete per dire stare bene, stare male, in italiano si usa il verbo stare. Come in portoghese si usa il verbo estar. Quindi attenzione! Non si dice come sei, si dice come stai. E allo stesso modo non si dice come sono, ma si dice come stanno. Quindi italiano e portoghese in questa situazione sono molto simili. I bimbi hanno finalmente ripreso la scuola e, come puoi immaginare, stanno crescendo a vista d'occhio. Sì, li ho visti su Instagram. Sono diventati grandi. Li ho visti. Attenzione! Per chi ha già una certa esperienza con la lingua italiana, sa che quando c'è un tempo composto, il participio passato, non concorda col soggetto se c'è l'ausiliare avere. E quindi io ho visto, tu hai visto, lui o lei ha visto, loro hanno visto, sempre visto. Ma attenzione! Se c'è un pronome che precede il verbo, come in questo caso, li ho visti, e allora il participio passato si concorda col pronome. E quindi li ho visti. Se fosse un plurale femminile, attenzione, in questo caso li si riferisce ai bambini, i bimbi, eu vi elis. Ma se fossero bambine, ad esempio, quindi eu vi elas, sarebbe le ho viste. Quindi questo participio si concorda con il pronome che precede il verbo. Eh già! A proposito, Carmen e Rita stanno bene. Sì, sì, tutto a posto. Anche Rita sta andando all'asilo. Asilo. Attenzione! Asilo, in italiano, corrisponde a Escola Infanciu, del portoghese. Mentre l'asilo del portoghese, in italiano, è Casa di riposo. Di già! Mamma mia, come passa il tempo! Attenzione alla differenza tra è già e di già. È già è come un modo per confermare la cosa che l'altra persona ci ha detto. È come dire è vero, no? È verdagi, è già. Invece di già è un'espressione di sorpresa. Di già! E quindi è un po' come dire già del portoghese. E tu, Piero, come vai al lavoro? Bene, bene. Siamo sempre molto impegnati. Ah, adesso stiamo lavorando su un nuovo corso gratuito. Si chiama Italiano in Pratica. Che ne pensi? Che ne pensi? Che ne pensi? È come dire che pensi, tu, cosa pensi, né, di questo, di questa cosa. Equivale al portoghese o che voce ascia, Gisso? Il nome mi piace. E in cosa consiste? Guarda, è una cosa che non abbiamo mai fatto prima. L'idea è quella che tutti i partecipanti possono cominciare a imparare l'italiano o continuare a migliorare, no, il loro italiano in modo proprio pratico e gratuito. Imparare una lingua è una questione di pratica, no? E allora vogliamo che tutte le persone possano mettere in pratica la lingua sin dal primo momento. in tutte le sue forme, quindi ascoltando, parlando, scrivendo. E per fare questo faremo in modo che loro possano interagire con tutti i professori del programma VAI. Fantastico! Bella idea, davvero! E quando sarà? Sarà tra poco, a fine giugno. Dal 21 al 26. Dal 21 al 26. Attenzione, in italiano, davanti alle date ci vuole sempre l'articolo. Quindi non è da, a, o di, a, ma è dal, al. Non a caso, l'espressione portoghese, ci vejo, gia, vinci un di giugno, in italiano si dice, ci vediamo il 21 giugno. Ci vediamo il, quindi è dal, al. A proposito, in quel periodo non mi chiamare perché sarò impegnatissimo proprio. Oh ragazzi, iscrivetevi subito! Non perdete questa occasione perché è davvero la prima volta che facciamo qualcosa di questo tipo e sono sicuro che questi sei giorni cambieranno e molto il vostro modo di imparare l'italiano e di conseguenza anche i vostri risultati. Oh, sono solo sei giorni. Un periodo breve. Ma io sono sicuro che se tu metterai in pratica tutto ciò che ti dirò solo in questi sei giorni già comincerai a percepire una trasformazione. Comincerai a sentire la differenza. E se non senti nessuna differenza, guarda, già te lo dico, puoi smettere di seguirmi qui, smetti di seguirmi su Instagram, non guardare più i miei video. Ma prima prova, davvero, non perdere questa opportunità, ok? Quindi clicca nel link qui in alto o nella descrizione del video e iscriviti subito e tra l'altro è gratuito. Bene Piero, e allora un grande in bocca al lupo per il corso. Crepi il lupo, grazie. Oh, ci sentiamo presto. In bocca al lupo e crepi il lupo. In bocca al lupo letteralmente significa na bocca do lobo. Ma è l'espressione che noi italiani generalmente usiamo per dire boa sorce. E qual è la risposta quando qualcuno ci dice in bocca al lupo? La risposta è appunto crepi il lupo. Crepi il lupo, che significa che morra o lobo. Sì, a presto, un abbraccio, ciao. Avete notato che c'è un errore nascosto in questa frase? E quindi clicca nel link qui in alto o nella descrizione del video e iscriviti subito e tra l'altro è gratuito. Qual è l'errore? Il errore è di lasciare per dopo. Quindi non perdere questa opportunità e clicca nel link adesso, fa la sua iscrizione a un corso gratuito e non perdere l'opportunità di trainare, di mettere in pratica il suo italiano con tutta l'equipe. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!